Forza Italia, vinciamo questo europeo, taglia Italia, taglia l'Italia, taglia l'Italia! 2-3-0 netti, tondi, ma veramente meritati, una difesa tosta, rocciosa, cinica e soprattutto una squadra molto grintosa, siamo molto contenti di questo gruppo che avevamo detto all'inizio ci avrebbe fatto sognare, per il momento con tutti gli scongiuri ci sta facendo sognare. È stata una sorpresa che l'Italia vince due partite consecutive 3-0. È sempre bello vivere un'emozione così, soprattutto agli europei, a livello europeo è molto importante. Forza Italia, forza Italia! Sempre. From Greece, forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Andiamo in finale e la vinciamo, taglia! Che possiamo dire insieme? E siamo più in contento! Tiro mio! 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 È un sogno, tre parole, ciao, grazie. Io voglio crederci, voglio crederci e facciamolo, taglia. Grande, ciao ragazzi, grazie. Ciao, taglia, taglia, taglia. Taglia! Ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al canale e metti like a questa news. La presvideo, l'immagine in prima linea.